Era preoccupato di perdere il lavoro a causa del covid e non essere più così in grado di sostenere la sua famiglia. Questo quanto rilevato dalla perizia psichiatrica su Bilal Miha, il 39enne originario del Bangladesh che il 21 aprile scorso aggrede il figlio e poi uccise la sua bambina di soli 4 anni a Levane. Dopo l'omicidio l'uomo si gettò in un pozzo, forse nell'intento di farla finita, ma i soccorretori lo estrassero comunque vivo e lo portarono dapprima all'ospedale della Gruccia e successivamente a Firenze dove poco dopo a causa di una forte crisi depressiva ne fu disposto il trasferimento presso un ospedale psichiatrico. Ad un anno di distanza dal delitto adesso la nuova perizia afferma che l'uomo sta meglio e che è in grado di partecipare al processo a suo carico e così il procedimento penale che fu bloccato per il vizio di mente dell'uomo si può riaprire. Come disposto dal GIP a Fabio Lombardo ci sarà dunque un capo di imputazione, un'udienza preliminare ed infine un giudizio, anche se con tutta probabilità il 39enne non riceverà mai la condanna alla reclusione in quanto nel momento del delitto era incapace di intendere volere in preda ad uno scompenso psicotico confusionario. L'uomo attualmente si trova nella Rams di Empoli, una residenza per l'esecuzione di misure speciali, struttura che ha preso il posto degli ospedali psichiatrici giudiziari. Grazie Grazie